Abbiamo capito, sei una persona che se vuole una persona detta così, vuole una cosa, se la prende no, però se ti piace tanto una persona ci arrivi in qualche modo. Se è vero che hai un trasporto per Roberta, non stai seduto lì ed esci così tanto per fare qualcosa o riempire un vuoto. Se è vero questo trasporto che hai, che non è solo fisico, anche emotivo, fai un qualcosa, non vuole ballare, fai un qualcosa. La verità mia non è che la devo spiegare a te su Roberta, la prima cosa. Ma io non voglio la verità, io voglio capire perché stai uscendo tanto per a questo punto. Ma stai uscendo tanto per, no, perché mi do l'opportunità di conoscere altre persone, non l'ho baciata, non mi sono buttato addosso, ho cercato di conoscere lei e vedere come vanno le cose, punto e bassa. Cioè che ho sbagliato pure in questo, ho sbagliato. Allora fingi, sono due le cose, non ti piace tanto fingi, ho tutte però. Posso dire delle cose che riguardano la storia con lei, perché poi mi sono rivisto, Maria. E sinceramente ho visto che l'ho chiusa questa situazione, però poi non ho detto perché veramente l'ho chiusa, perché c'erano tante cose che non andavano. Di cui, la prima cosa che, per quello che mi riguarda, cioè io, guarda, non ti voglio un minimo di male, però te lo devo dire. Semplicemente perché ti vedo lì così tanto, io non so perché tu volevi continuare una storia quando sapevi che c'era un'incompatibilità di base totale. A me adesso, riaprire quello che c'è stato non mi interessa, ho messo un punto una settimana fa, non mi interessa proprio.